59 molto più profondo centro spirituale frattocchie guida ogni volta che non mandi giù qualcosa accumuli in te qualcosa che non va giù questo sarà un richiamo per l'onda delle cose che non vanno giù e se non reagirai ti troverai a non mandare giù la maggior parte delle situazioni che vivi prendi in mano la situazione quando qualcosa non ti va cerca pure di modificarla senza emozionarti negativamente cerca di vedere le cose per quello che sono esperienze da vivere per accrescere la tua positività per insegnarti la gioia per insegnarti l'amore in ogni situazione c'è la strada della luce ma spesso non te ne accorgi perché vedi come soluzione ai problemi solo quello che ti hanno mostrato sia giusto fare e fai perché devi fare perché una tua responsabilità fare in quel modo la realtà è che le responsabilità sono un qualcosa di molto più profondo delle storie che vi raccontate voi umani tra padre e figli parlando di famiglia di lavoro e tempo libero tu sei libero dai tuoi impegni per il semplice fatto che non sono impegni sono la tua vita non devi fare ciò che ti dice di fare l'onda energetica della passività del conformismo e del comune credere ma inizia a sentire la verità della vita a collegarti con l'onda della libertà e della gioia di essere circondato da persone che contano su di te e che ti vogliono bene non guardare solo agli aspetti pesanti delle situazioni ma vivi serenamente ogni esperienza e l'onda della serenità vibrerà in te perché tu la richiamerai con il tuo stesso sentire sono le onde energetiche che ti circondano a darti spesso delle scosse o dei calmanti e provengono da tutto ciò che ti circonda intorno a te tutto è energia alla base c'è sempre il soffio vitale che è un qualcosa di sublime e di eterno continua 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 ciao 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 ciao